E' frutto del rinnovo della Convenzione tra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, una delle prime stipulate in Italia, il progetto denominato Decentramento del Servizio di Accertamento di Invalidità Civile che valso alla Calabria l'ottenimento del premio Eccellenze IMSS 2023. Un risultato incentrato sulla possibilità offerta a quanti soggetti appartenenti a categorie fragili e che vivono in realtà periferiche della Calabria di poter fruire di servizi fondamentali eliminando i disagi dovuti alle distanze geografiche. Nel 2023 la Calabria si è caratterizzata per un'elevata performance con alti livelli di qualità. La media tra la presentazione della richiesta di prestazione e l'erogazione è stata di 60 giorni. Di questo riconoscimento si è parlato alla cittadella regionale. Abbiamo attivato una forma di collaborazione che per la verità ha visto nell'IMS un eccellente protagonista insieme alle amministrazioni comunali coinvolte e abbiamo dimostrato al Paese che anche la Calabria appunto può essere una regione eccellente quando la pubblica amministrazione si mette insieme per realizzare servizi utili per i cittadini. Fare in modo che il servizio di accertamento fosse un servizio di prossimità dato in corrispondenza della loro residenza piuttosto che fare spostare queste persone con i disagi che ne derivano è stato considerato un servizio così importante da poter ricevere questo ambito premio nazionale. I territori devono essere sempre di più valorizzati, è importante essere qui oggi alla regione insieme al Presidente Occhiuto per sottolineare questa forma di sinergia che al Mezzogiorno d'Italia e soprattutto alla nostra regione è assolutamente necessaria. È una bella idea, una scelta vincente dopo che l'Agenzia INPS a Caolonia era stata chiusa. Lì c'è anche un gabinetto medico che serve circa una comunità di oltre 70.000 persone. è veramente un successo, persone che dovevano recarsi sul Reggio Calabria adesso lo fanno a Caolonia. Quindi diciamo che siamo molto contenti, la scelta è stata vincente e quindi il territorio ringrazia chi ha visto molto in avanti. Grazie.